Benvenuto su Virale, iscriviti e lascia un like. Ciao nonna, te ne sei andata il 23 agosto, lo stesso giorno del nonno. Non credo alle coincidenze e sono sicuro che ora siete insieme a ridere della vita. Vi voglio bene, il messaggio di addio scritto accanto allo scatto, subito raggiunto da migliaia di commenti affettuosi e dall'emoji di un cuore da parte della moglie Georgia Palmas che, come lui, per qualche ora ha lasciato che tra le sue storie Instagram figurasse lo stesso fiore giallo scelto da Filippo Magnini come ulteriore ricordo della sua nonna. Un lutto ha segnato l'estate di Filippo Magnini. La nonna dell'ex nuotatore è scomparsa qualche giorno fa, il 23 agosto, e solo nelle scorse ore un post Instagram ha condiviso con i follower l'enorme perdita subita dalla famiglia. Una data che resterà impressa nella memoria quella della morte dell'amatissima parente, coincidente com'è con quella del marito della donna, scomparso proprio nello stesso giorno di qualche anno prima.